Ma voi lo sapevate che è uscito il quarto libro di Amdog Training, Il mondo di Olivia? Un libro completo che vi affiancherà nella fantastica avventura insieme al vostro cucciolo. Trattasi di un manuale, una guida da seguire che non può mancare all'interno della vostra libreria. 312 pagine, 41 capitoli, 61 QR code collegati a oltre 100 video. Avrete tutto quello che vi serve sapere per poter vivere in maniera armoniosa con il vostro cucciolo. Il mondo di Olivia lo trovate su Amazon, sul sito AmdogT e su tutti gli esercizi convenzionati. A questo punto non vi rimane che acquistare il mondo di Olivia.